Buonasera a tutti, siamo in questo strano inizio del mio corso di filosofia, un momento strano per tutti, è un corso strano a distanza, un corso che parla del silenzio e si svolgerà nel silenzio, io non potrò sentire le vostre domande, i vostri interventi e ci sarà questo silenzio un po' perturbante che c'è normalmente nell'utilizzo di questi strumenti. Però cercheremo di fare lo stesso nelle nostre riflessioni, cercheremo di capire insieme il rapporto tra filosofia e silenzio e questo potrà servirci anche per provare a stare un po' meglio, perché io credo che in questi momenti così difficili occuparci di cultura sia comunque un elemento di resistenza, sia comunque un elemento di recupero dell'umanità e della dignità dell'essere umano. Quindi ringrazio gli organizzatori di questa università per aver continuato il loro lavoro e il nostro lavoro insieme per aver cercato comunque anche quest'anno di fare queste lezioni e speriamo che presto si possa tornare a lavorare occupando lo stesso spazio insieme seduti nella stanza, nella sala che ci ha accolto per così tanto tempo negli anni scorsi. Il tema del corso è filosofia e silenzio. Perché il silenzio? Come mai un corso sul silenzio? Il silenzio è un oggetto molto strano, è un oggetto di cui sembra che non si possa parlare perché quando ne parli già è scomparso. Che cos'è il silenzio? Un sasso che cade su un pianeta disabitato? Fa rumore? Questa è una domanda che viene posta ai corsi di filosofia e di logica ai ragazzi, agli studenti. Se nessuno lo sente, c'è il rumore? Esiste davvero il silenzio? Oppure il silenzio richiede qualcuno che ascolta? Ecco, queste sono domande che sembrano banali, che sembrano degli arzigogori filosofici, ma in realtà sono importanti perché ne nascondono un'altra. cosa che è quella da cui partiamo. La differenza tra silenzio e tacere. Tacere è un gesto umano, è l'uomo, l'essere umano che sceglie di fare silenzio, di fare il silenzio, che è una cosa strana, no? Fare il nulla, fare qualche cosa che normalmente sembra non abbia nessun significato. Tacere quindi è una nostra scelta. Noi possiamo parlare, possiamo tacere. È un silenzio scelto, è un silenzio fatto da noi e ci vuole poco apparentemente. Invece è molto difficile tacere, è molto difficile riuscire a tacere, accettare il silenzio proprio dell'altro. Abbiamo sempre bisogno di parlare, giustamente perché il linguaggio è una forma importante di espressione, ma siamo meno capaci di tacere. Quindi questo tacere invece sarebbe così importante perché ci permetterebbe di recuperare il senso delle parole, riuscire a parlare solo quando è necessario, solo quando siamo ragionevolmente certi che le parole che diciamo non siano chiacchiera. Questo è il tacere. Poi c'è il silenzio. Il silenzio è una cosa che non dipende dall'essere umano. Il silenzio noi lo possiamo solo ascoltare, non lo possiamo fare. Il silenzio della natura, di cui parleremo oggi. Ma perché il silenzio è un oggetto filosofico? Perché è così importante dal punto di vista filosofico? Prima di tutto perché il silenzio permette l'esercizio dell'ascolto. Se non c'è silenzio non c'è neanche ascolto. La prima cosa che dobbiamo imparare ad ascoltare è il silenzio. Se sappiamo ascoltare il silenzio sappiamo ascoltare anche le parole. Permette quindi la possibilità, la capacità di rimanere passivi, di ascoltare senza parlare, anche se a volte quello che ascoltiamo è il silenzio. Pensate quando si incontra un amico, quanto è importante capire i suoi silenzi. Prima ancora delle sue parole. Quello che tace, quello che non ci dice, quello che non vuole dirci, quello che non riesce a dirci. Il silenzio ci mette in una posizione nel quale dobbiamo anche astenerci dall'interpretazione. essere disponibile a farci attraversare dal silenzio, far entrare il silenzio dentro di noi. Il silenzio ha proprio questa capacità di mettere in comunicazione l'interno con l'esterno. Il silenzio che è dentro di noi, il silenzio della nostra anima, quello che serve per concentrarci, quello che serve per scoprire le dimensioni profonde del nostro essere è anche a volte in consonanza col silenzio che c'è fuori. In alcuni luoghi naturali i due silenzi si richiamano a vicenda. Ho bisogno del silenzio esteriore per entrare nel mio silenzio interiore. Il silenzio quindi è qualcosa di più grande di noi. È qualcosa di più grande di noi perché c'è da prima della comparsa della specie umana sulla Terra forse il primo oggetto dell'universo. In principio forse era il silenzio e poi venne il verbo, poi venne la parola. Dio parla, ma parla nel silenzio, nel silenzio primordiale, nel silenzio di una natura che non ha ancora conosciuto la vita e ci sarà dopo di noi. Ci sarà un silenzio dopo di noi, che noi dovremo tacere dopo la nostra morte e il silenzio ci circonderà in qualche modo. È più grande di noi anche dal punto di vista spaziale. Il silenzio è ovunque, l'universo è silenzioso. Nella nostra casa noi abbiamo la parola, abbiamo la musica, abbiamo il rumore, ma tutto questo è circondato dal silenzio. Ed è questo il silenzio della natura. Il silenzio della natura parte dagli estremi confini della natura, dai confini del cosmo, il silenzio delle galassie, fino ad arrivare al silenzio della natura che ci circonda. La poesia e l'arte hanno saputo cantare, raccontare il silenzio della natura. La poesia e l'arte proprio perché sono strumenti che misurano i gesti, che misurano le parole, i colori, le note. Le opere d'arte più importanti dal punto di vista musicale degli ultimi secoli sono le opere d'arte che in qualche modo hanno interiorizzato il silenzio. Pensate all'ultimo Beethoven, pensate a John Cage, pensate a Arnold Schoenberg, dove ci sono delle pause, il tacet, l'orchestra che non suona. E questo silenzio è dentro l'opera d'arte, è interno all'opera d'arte. Ed è il silenzio della natura che l'arte riflette dentro di sé. La natura per sé non è silenziosa. La natura parla attraverso i versi degli animali, attraverso lo stormire delle fronde degli alberi, attraverso il tuono, la valanga. Quindi anche dentro la natura noi dobbiamo andare a cercare il silenzio. Quando la natura tace si vivono quei momenti di pace assoluta, di pace estrema, suprema, quei momenti in cui ti sembra davvero di essere in un'altra dimensione. Succede nei ghiacciai, sembra che succeda sottoterra, dove i rumori sono così ovattati alla fine da spegnersi quasi completamente. E la poesia, adesso faremo due esempi, la poesia ci aiuta, la filosofia in forma di poesia, ci aiuta a capire questo silenzio della natura. La prima poesia di cui ci occupiamo è una poesia di poeta spagnolo, andaluso, Federico García Lorca. García Lorca ha scritto molte poesie sul mondo della natura, confrontando la natura della sua Spagna, della sua Andalusia, con la natura violentata, violata, offesa, a New York, nel suo libro Poeta a New York, che racconta del suo viaggio nella metropoli americana. Mentre nel libro di cui, nel quale parla dell'Andalusia, Lorca scrive una poesia che si intitola appunto Il Silenzio. E questa è la poesia di Lorca. Ascolta, figlio mio, il silenzio. È un silenzio ondulato, un silenzio dove scivolano valli ed echi e che inclina le fronti al suolo. Ecco, prima di tutto c'è questa immagine di un padre che fa ascoltare al figlio il silenzio. Immagine di un padre che porta il figlio in una zona isolata dove c'è il silenzio e richiede di ascoltare il silenzio, che è una delle cose più difficili da fare, come dicevamo all'inizio. La lezione che questo padre dà a questo figlio è sapere ascoltare il silenzio. Perché se sai ascoltare il silenzio, sai ascoltare anche la parola, sai dare significato alla parola. Ed è interessante che Lorca inserisca questo tema del silenzio nella relazione padre-figlio, in una relazione educativa. Ciò che noi possiamo fare come educatore è regalare ai nostri ragazzi dei momenti di silenzio, dei frammenti di silenzio, la capacità di ascoltare il silenzio. Il silenzio è ondulato, è un silenzio fatto a onde. A volte succede quando c'è silenzio di sentire come una pulsazione, che probabilmente fisicamente e fisiologicamente è la pulsazione del nostro sangue, però il silenzio assoluto forse non possiamo mai sentirlo, forse sarebbe insopportabile, forse non riusciremmo a reggerlo. Un silenzio ondulato, quindi un silenzio che non è sempre lo stesso, ci sono diversi gradi di silenzio, diverse sfumature di silenzio. Il silenzio non è mai sempre uguale a se stesso. Un silenzio dove scivolano valli ed echi, le valli dell'Andalusia e tutti gli echi che si sentono sulla montagna. È il silenzio dei millenni, il silenzio antichissimo, prima della comparsa dell'uomo. È questo che l'orca vuole far sentire a questo ipotetico bambino, ragazzo, quando gli fa sentire il silenzio, gli fa ascoltare il silenzio. Vuole fargli sentire il silenzio primigenio, il silenzio di una natura che preesiste all'uomo, che rimette l'uomo al suo posto, che in qualche modo fa tacere l'arroganza dell'essere umano. Perché non vuol dire che l'essere umano non è importante, l'essere umano sa ascoltare il silenzio, però deve mettersi in una posizione non di dominatore della natura, con le sue parole, con i suoi discorsi, con le sue armi, con il tuono delle sue macchine. Ed è un silenzio per questo che inclina le fronti al suolo, fa abbassare le fronti verso terra in un inchino, in un rendimento di grazie, in un gesto che non è di autodenigrazione, ma è un gesto umile, di umiliazione di fronte alla grandezza della natura. La natura ci sconvolge col suo silenzio e ci fa inchinare per ringraziarla, per lodarla, per dire che questo silenzio è un elemento di bellezza nei confronti del quale noi abbiamo un atteggiamento di rispetto. Una poesia, anche questa molto breve, di una poetessa, questa volta una donna, Alejandra Pizarnik, una poetessa non molto conosciuta, molto breve, sempre sul silenzio. Io mi unisco al silenzio, io mi sono unito al silenzio e mi lascio fare e mi lascio bere e mi lascio dire. Così è brevissima, ma molto intensa. Il silenzio è come lo sposo e tu ti unisci a questo silenzio, però sei passivo. Lasci che il silenzio parli, lasci che il silenzio faccia, lasci che il silenzio ti beva, io mi lascio bere dal silenzio. È una posizione che ritroviamo molto della filosofia occidentale, soprattutto nei grandi mistici nell'Occidente, Maester Eckhart, Angelus Silesius, che si era soprannominato l'angelo silenzioso, Angelus Silesius, Jacob Böhme, tutta la grande mistica tedesca, e non solo tedesca, ma in particolare in questo caso tedesca. Il silenzio come atteggiamento di fronte alla divinità, che è silenzioso, questi due silenzi che si fondono, che si sposano. L'essere umano una volta tanto, dicevo prima, è passivo, si lascia attraversare, si lascia inglobare dentro questo silenzio. Il silenzio rispetto al quale noi diventiamo una bevanda, il silenzio che ci beve, che ci succhia, che ci fa entrare, se conoscete la canzone un oceano di silenzio, di battiato, è entrare dentro questo oceano di silenzio e arrivare alla pace, arrivare al silenzio della beatitudine. Questo è molto presente in tutte le grandi tradizioni mistiche. Il mistico deve prima di tutto imparare a tacere, deve prima di tutto imparare ad ascoltare il silenzio divino e a rispondere al silenzio divino con il proprio silenzio, in modo da creare una comunione col divino. Il terzo punto di riferimento di cui volevo parlarvi oggi, invece, è un artista, un pittore, Vassili Kandinsky. Kandinsky, grandissimo pittore, uno dei grandi della pittura informale, ingiustamente, in modo non corretto, definita pittura astratta. Kandinsky è anche un teorico dell'arte, scrive dei testi molto importanti, uno dei quali si intitola Punto Linea e Superficie e l'altro Lo spirituale nell'arte. Il nero spirituale nell'arte, in questo trattato filosofico di filosofia dell'arte, dico di straordinaria importanza, Kandinsky parla di due tipi di silenzi. Due tipi di silenzi associate a due colori, il nero e il bianco. Il nero e il bianco come colori che contrapposti tra loro, come non colori se vogliamo, contrapposti tra loro che ci richiamano a due diversi tipi di silenzio. Il nero, dice Kandinsky, è un punto definitivo, il silenzio definitivo. Ciò che con questa pausa si è compiuto è terminato per sempre. Il nero è la chiusura, il nero è la morte, il nero è il lutto. Il nero è il silenzio che segue una storia che si chiude ed è un silenzio difficile da sopportare. È difficile sopportare il silenzio di un addio, il silenzio di una morte, il silenzio di un abbandono, il silenzio che proviamo quando qualche cosa è finito, ma soprattutto il silenzio che proviamo quando ci rendiamo conto che tutto finirà. Perché quando qualcosa finisce c'è sempre qualcosa d'altro, ma l'idea che tutto finirà non riusciamo ad accettare, fino in fondo probabilmente è tipica dell'essere umano questa difficoltà di accettare la fine di tutto. Il nero è proprio il colore, secondo Kandinsky, di questo tipo di silenzio, il silenzio della conclusione. Però, dice Kandinsky, se noi guardiamo fino in fondo il nero, guardiamo fino in fondo la nostra finitudine, riusciamo ad essere convinti che un giorno tutto finirà, quel giorno non è adesso, quel giorno non è necessariamente oggi. E dice allora Kandinsky, davanti al nero, al silenzio del nero, qualsiasi prosecuzione appare come l'inizio di un nuovo mondo. Quindi il silenzio della fine ci porta a provare un nuovo inizio, ci responsabilizza. Ci responsabilizza molto. Dice Kandinsky, di fronte alla tela nera, io sento la responsabilità del segno che sto per fare, perché è strappato al silenzio, è strappato alla morte. Pensate alle parole che noi possiamo dire dopo una morte, dopo un addio, dopo un momento di fine di qualcosa, la prima parola che diciamo dopo la fine di qualcosa. La parola del nuovo inizio, quindi non può essere chiacchiera, non può essere una parola banale, deve essere una parola pensata, meditata, profondamente meditata dentro di noi. Dobbiamo ricreare dentro di noi il nero di quel silenzio per poter poi dire delle parole che non siano delle banalità. E poi c'è il silenzio del bianco. Il silenzio del bianco Kandinsky lo associa da un lato al fatto, curiosamente, che in oriente il bianco è il colore del lutto e quindi i principi e i fine in qualche modo si intrecciano. Però il silenzio del bianco è anche associato al fatto che il bianco è la sintesi di tutti i colori e è anche simbolo del ghiaccio, del polo nord, di questo silenzio glaciale. E dice Kandinsky, il bianco è il simbolo di un mondo in cui tutti i colori, come principi e sostanze fisiche, sono scomparsi. Questo è simile al nero, però è il colore dell'inizio, una specie di grembo, una specie di ventre gravido che sta per dare inizio alla nuova vita. Un grande silenzio, dice Kandinsky, che sembra assoluto ma non è morto, ma è ricco di potenzialità. E bisogna viverli insieme il bianco e il nero, bisogna chiudere qualcosa per aprire qualcos'altro e scoprire il nero all'interno del bianco, trovare l'alba dentro l'imbrunire, come diceva sempre Franco Battiato. Il bianco quindi dice Kandinsky è un silenzio che è, e qui c'è una metafora molto bella, la giovinezza del nulla, il nulla da giovane. O meglio, dice ancora Kandinsky, un nulla prima della nascita, prima dell'origine. Forse la terra risuonava così nel tempo bianco dell'era glaciale. E quindi cogliere i silenzi della natura vuol dire sapere cogliere la morte, sapere cogliere la rinascita, il silenzio dell'animale morto ma anche dell'uovo che sta per schiudersi. Il silenzio della notte, c'è nella notte un momento, una cert'ora di notte, quella che viene chiamata l'ora del lupo, che è l'ora più alta della notte, che parlava anche Quasimodo in una poesia, nell'ora più alta risuona ad un battito d'ali veloci. In quel momento si coglie che sta finendo un giorno e con un uomo fatica a nascere. Che c'è questo momento di perfetto equilibrio, c'è dentro ogni notte un equilibrio perfetto, un bilanciamento perfetto tra il silenzio del giorno che muore e che è morto e il silenzio del nuovo giorno che sta nascendo. Ecco, in questo momento si fondono il bianco e il nero e nasce una speranza, rinasce la speranza. Forse bisogna arrivare fino alla fine del silenzio del nero per cogliere il silenzio del bianco. Il che vuole dire probabilmente che bisogna arrivare anche in fondo alla disperazione per trovare la speranza. E dice Kandinsky, il silenzio del bianco è un mondo così alto rispetto a noi che non ne avvertiamo il suono. Allora proviamo a fare una riflessione che tenga insieme queste dimensioni che abbiamo visto in questi tre autori, due poeti, un poeta, una poetessa e un pittore e anche i mistici di cui abbiamo parlato. Cosa vuol dire cogliere il silenzio della natura? Cogliere la natura come continua generatività, come continua generazione di se stesso, che però per poter rinascere deve morire. E tutto questo lo fa in modo nascosto. Eraclito diceva, filosofo greco, diceva La natura ama nascondersi. Bisogna andare a cercare dentro la natura questo momento, questo equilibrio, questo passaggio tra la morte e la rinascita. E il silenzio della natura ci invita proprio a fare questo, ad andare a cogliere questi momenti, questi momenti decisivi, questi momenti alti in cui non abbiamo neanche bene l'idea di quello che sta per nascere, non possiamo sapere in anticipo quello che sta per nascere. E tutto questo inserito, come ci diceva Lorca, nella relazione educativa, cioè nel fatto che ciò a cui noi possiamo educare i ragazzi è proprio questo ascolto del silenzio. Allora portiamo i ragazzi nella natura e facciamo sentire ai ragazzi che il silenzio della natura è diverso dal silenzio delle loro camerette. Oggi non possiamo farlo, oggi siamo probabilmente, saremo per un po' di tempo impossibilitati a, forse non a non uscire di casa, ma certamente a ritrovarci, però attraversare un bosco in silenzio, senza parlare, cercando di fare il meno rumore possibile anche con i passi, vuol dire appropriarsi di quel silenzio che è diverso dal silenzio opprimente, oppressivo delle nostre case, che è diverso anche dal silenzio che in questo momento io sento perché non siamo collegati e non siamo presenti fisicamente insieme. Quello è un silenzio vivo invece, il silenzio della natura è un silenzio vivo. Allora abituare i bambini e i ragazzi a accogliere questi momenti di passaggio e a tacere per poter parlare. C'è un silenzio complice, ne parleremo quando parleremo del silenzio dell'uomo, ma c'è anche un silenzio che ci permette di parlare con più efficacia, che ci permette di dire parole più pensate. Ecco, allora la natura ci parla con i suoi silenzi, ci parla con i tramonti silenziosi, di fronte ai quali anche dire che bello, che bel tramonto sembra rovinare, rovinare l'atmosfera. E parla alle dimensioni più profonde di noi, anteriori al linguaggio, alle dimensioni emotive, al brivido, alla pelle d'oca, alle reazioni che noi abbiamo di fronte a un paesaggio, a un elemento naturale che non sono semplicemente riconducibili alla parola e probabilmente non riusciremo mai a spiegare fino in fondo e non per niente lo fanno i poeti, lo fanno gli artisti. Ecco, questo primo passaggio all'interno di questo corso sul silenzio voleva proprio partire dalla natura ricordando una cosa molto semplice, che noi siamo natura, che anche noi siamo natura, che non c'è una distinzione netta tra cultura e natura. E anzi, quando la cultura si ricorda di essere una parte della natura, quando l'uomo si ricorda di essere un animale, un animale simbolico, un animale che parla, che scrive, che legge, allora realizza le sue opere migliori. Questa sintonia con la natura e soprattutto non voler sprecare troppe parole, ma anche sapere che il linguaggio può essere uno strumento importante di conoscenza e di fratellanza con la natura. Gibran, l'autore del profeta, poeta indiano, diceva grande è colui che canta i nostri silenzi, grande è colui che descrive i nostri silenzi, perché commentare le nostre parole sono capaci tutti, invece descrivere i nostri silenzi e entrare nei nostri silenzi è molto più difficile, è molto più complesso. Ecco, questo è un po' l'inizio di questo nostro percorso. Oggi la natura la vediamo come nemica, c'è il virus, che è un elemento naturale che ci aggredisce, che ci spaventa tanto. Oggi uscire di casa vuole dire avere paura, e questo è molto grave ed è molto preoccupante, perché dovremo anche a un certo punto superare questa fase, supereremo quando il virus sarà sconfitto ovviamente, però dovremo imparare, reimparare a rapportarci con la natura, reimparare a respirare insieme agli altri quando sarà possibile, riscoprire un mondo che è là fuori, che continua a vivere con i suoi silenzi, con le sue parole e con i suoi suoni. Durante il lockdown la scorsa primavera era abbastanza così angosciante da un lato, ma anche consolatorio dall'altro, vedere quelle bellissime giornate. La prima era scorsa è stata una delle più belle dal punto di vista del tempo degli ultimi dieci anni, noi eravamo così in casa. Però da un lato era angosciante, dall'altro però ti faceva anche capire che la natura era lì, che gli alberi erano lì, ti aspettavano. In qualche modo c'era un mondo che continuava, il mondo non era finito, non era il grande silenzio della fine, o il grande boato della fine, o il grande sospiro della fine, come dice Eliot, pianisteo anzi, della fine. Era un mondo che ci stava semplicemente aspettando, era il silenzio dell'attesa, di un mondo che aspettava che l'essere umano potesse finalmente uscire. Adesso siamo ancora in un momento di difficoltà, in un momento di crisi, ma dobbiamo imparare ad ascoltare i nostri silenzi, a fare in modo che il silenzio non sia soltanto abbandono, paura, terrore, solitudine, ma sia anche un atteggiamento costruttivo di fronte al mondo. Un po' ad ascoltarci, ad ascoltare noi, ad ascoltare la natura, a guardare il mondo e capire che c'è speranza, ma c'è speranza se sappiamo cogliere quella giuntura, quel passaggio tra vita e morte, tra morte e vita, tra morte e rinascita, tra notte e giorno, che il silenzio della natura ci può mettere di fronte. Grazie a tutti per l'ascolto di questa prima lezione e ci vediamo presto. Arrivederci. Grazie a tutti.